Allora ragazzi, io sto sapendo delle cose assurde, cioè è mai possibile che noi rapper facciamo un culo così per anni e anni e anni e poi Snoop Dogg stanno un po' di scherzo e Gianluca Vacchi, ma è veramente ma c'è chi ha capito l'amore stasì? E guarda, cioè io ho DJ Taiwan, the best DJ che ha vinto tutte le gare di scratch, è un DJ, è un producer, fai il basso, suona dal video, fa paura, poi arriva, c'è Luca Vacchi e te lo Snoop Dogg, ma è veramente ma c'è chi ha capito la torta che ha preso? Io non ci credo, io non ci credo, quella che l'è, cioè la gente che andava, cioè la gente andava a una linea, non può fare niente, invece prendiamo un po' di torta, non ci credo, eh no però c'ho T-Pain, Los Angeles, è sempre merda, bravo! Dimmi Eminem, sì, sì, io sono nato il 21 dicembre, lo stesso giorno della fondazione di Napoli, sì, no, non lo possiamo fare il featuring perché io non tengo, no, io purtroppo sono uaglione, mi sa, vi essa ci fa frissare legare un po' culo e basta, solo che sta dentro. Ah, mi sono sfogato, ora sono una persona felice, Vulcano, il nuovo album di Clementino. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché il tempo che è passato, ma sono ancora qua, e oggi come allora, difendo la città, alé Napoli, alé, alé Napoli, alé. Domani, dice Taiwan, Clementino, Vulcano Summer Tour, a Benevento Centro, un saluto a Clementino Mastella che ci ha chiamato questo naso. Ammo! Un saluto dal più grande ristorante di Brindisi, Le Colonne! Grazie! Ehm! 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 Grazie a tutti.